che a livello offensivo chiaramente può permetterselo attenzione sulla destra, Camoranesi contro Drente il tocco per Giovinco, prova l'accelerazione poi il colpo di tacco del Piero, delizioso poi ancora Giovinco, area di rigore difende il pallone, vuole rimanere in aria il cross, lo schiaccia a terra Camoranesi non ci arriva Mauri, dietro di lui Camoranesi schiaccia a terra, si salva in corner Dudek grande giocata di Giovinco bello il colpo di tacco del Piero che gli ha ritornato il pallone ma grande giocata, numero di Giovinco che nel breve ha messo una palla incredibile e involontanamente Mauri ha un pochino fatto velo a Camoranesi che ha colpito la palla molto bene